Ave Maria di Caccini è un'aria sacra composta da Vladimir Bavillov intorno al 1970. Si tratta di un falso musicale, sì proprio un falso, erroneamente attribuito al compositore barocco Giulio Caccini. Lo stesso Bavillov registrò e pubblicò per primo il brano nel 1972. Attribuendolo ad autore anonimo. Si ritiene che sia stata ascritta, cioè attribuita a Caccini dopo la morte di Bavillov. Cantata dal soprano Anait Hovanissiam, Ave Maria di Caccini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.